che domino fa la notte che davide fa la notte dai fatemi una tassarellina piccola così è una compagnia dai dai così è una compagnia ma questa tassarellina come va piccola proprio come te uguale si che ce l'ha giusto e ce l'ha visto se chi ti fa una figlia femmina me l'ho detto io il tocciatellino non ti basta non ti basta il tocciatellino no io voglio una femmina mi chiami che scelta un trevento no 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 ma stai facendo un po' questo e 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 bella sei ciao 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 balliamo e tu balli balli ma fai vedere se buro buro l'armada è becchia se buro guardate, guardate, lo so fare lo so se si è piccolo mi chiamo, mi chiamo si, guardate qui sono qui sono qui Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Non mi ricordo più niente, questo è il senso del controllo, della vista, dell'uriso e della memoria. Non mi ricordo più niente. Sì, 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 sì. Non mi ricordo più niente. Sì, 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 sì. scoperto insieme guardate guardate cammino 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 vieni e poi vieni non ci sono più ah ah come lo vado ok prima di dirigele il caso vieni pieta guardate 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 I non sono niente Mi sono lunedì mi Danke 76 No ! Perché ho già pianto troppo per questo sconsigliato qua. Mi ha tradizionato. Ma che ti sforzassi? Il profumo adorami. No, Piscì, per favore, ti prego, basta, Piscì, mi fa me, basta. Tu me l'hai detto di aprire la porta, Carola. E ti rami il bacio e la polizia. No, tu sei stato. E io mi andavo in bagno. E' una esigenza in particolare che mi puoi negare a una persona, perché se ne vedi che succede che mi faccia ser apiciatoso, e poi che mi asciugava, che me lo potevo in bagnazzo, che me lo dava di mutando, tutta forte, perché, puoi, puoi, puoi.